eccoci il nostro narratore ha appena detto che dobbiamo vedercela con gli all star e bentornati quindi nell'angolo del gaming per errore ho avviato prima di iniziare a registrare questa sezione la all star la nuovissima diamo uno sguardo quello che ha non possiamo muoverci allora oggi tocca smash showcase non so se faremo altre gare anche perché credo che saranno un po più complesse da oggi in poi ne vada all star showcase due prove sono previste direi di cambiare macchina perché questa qua non mi è assolutamente piaciuta finora la subaru impresa w arxi sti gd colore unigun e temo che sia la versione con le ciambelle se la gara con le ciambelle è difficilissima sequenza sbagliata qualificato non ho capito ritirato va bene andiamo qua in colorado race off se vinco vado sblocco la gara successiva altrimenti non si va avanti nel titolo tre giri in colorado allora anche se questo sarebbe bello finire di potenziarla io vorrei cambiare macchina la jackson adventure oppure finiamo di potenziarla dai no torna indietro allora stacchete e forza stacchete basta così la guidabilità da un'altra volta abbiamo già speso tanto adesso skin industries con il numero 74 su da neve la grafica della neve non mi sta per niente piacendo la tensione altissima perché se non arrivi primo sei ultimo benissimo al primo posto c'è un mio omonimo di nome ma non di cognome il più classico dei tamponamenti da dietro che potano gli farà certo piacere a me ha fatto piacere invece perché sono passato in prima posizione l'importante è arrivare penultimo non vedo più niente ecco adesso ho ripreso a vedere però questa macchina sulla neve sta andando bene il realismo di questo titolo non c'è proprio poi non vedo le velocità la velocità in cui sto guidando che mi tornerebbe utile in certi momenti per sapermi meglio regolare perché posso gestire la velocità con i pedali virtuali la velocità con i pedali virtuali benissimo oia qualcuno mi è venuto addosso da dietro devo controllare l'impostazione dei tasti mi sa che lo faccio subito scusate ma se io voglio vado nei comandi qualcuno comanda allora freno a mano pulsante guarda indietro pulsante 4 esisterebbe l'ho trovato così posso sapere che c'è dietro qualche battuta visto che ho battuto contro il muretto è finita ce l'ha fatta come spesso capita il vetro davanti è distrutto mi sono visto all'interno tutto nero allora andiamo avanti io direi a questo punto di fare una corsa se si è sbloccata un'altra gara andiamo avanti ci vogliamo fermare qui dai andiamo Jupiter San Marino ma è su Giove o è su San Marino ah no Jupiter San Marino cioè è giapponese Rampage si è sbloccato Yoko Hama quindi andiamo a Yoko Hama abbiamo un'altra volta questa demolition 2.000 voglio arrivare non voglio spendere più di 12.500 quindi si basta ho migliorato la guidabilità ma mi fermo qui con la spesa Hans Elegrator va bene lasciamo la versione Hans Yoko Hama Rampage penso che sarà più difficile rispetto la prima parte distruzione totale distruzione totale oh no non riesco a guidarla ho migliorato la guidabilità i due picciolcini un po' di privacy ha paura che rompessi un'occhia dai vada boom ok l'acquonamento ora si fa sul serio e ora è davanti a tutti ok ho recuperato che incidente da paura all'incrocio che incidente da paura all'incrocio incrocio e ah e non frena dando ingente al retrotreno sì abbiamo la prima auto fuori gara incidente all'incrocio oh sto per uscire e infatti sono uscito come va va adesso ah torno in gara oh beh mi volete lasciare si sono scambiati i radiatori dagli ingenti per quella botta laterale che schianto ragazzi deve tamponata oh che tenerezza è come se quelle due vetture si stessero baciando sveglieranno con un mal di testa epico domantina dateci un taglio ragazzi siamo in fascia protege la gestora golpolo e dali ai bianchi maniera spiega come se fosse stop poi si preumatici ha vinto congratulazioni grazie ok dovrebbe essersi sbloccata un'altra gara e poi ci fermiamo prosegui senza prosecco però perché il prosecco non fa proseguire secondo me se uno si mette la guida dopo essersi riempito lei prosecco non prosegue che poi il prosecco è un vino professionale penso perché è pro davanti quindi il secco c'è un professionista secco la faiette iologi ok race off race on michigan si è sbloccato leg side sprint tre giri nel michigan 10.000 dollari oh oh andiamo a completare la belly wall meteor con massimo della guidabilità ora che me la fai guidare ok ora che massimo guidabile al massimo facciamo snap on racing snap on racing michigan piove piove però il fuoco va avanti non si spegne questo master può fare di meglio dal punto di vista grafico infatti vediamo se cambiando si vede meglio potta da dietro avete visto questo passo si si eh posizione 2 alla giusta altezza dai quale basso grafico 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, se stai lontano da me, ma non troppo da questo punto. Eccolo qua, appiccicato. Appiccicato. Gira come una roulette. Sta risalendo la classifica. E ha vinto. Un altro pilota è arrivato al traguardo. Ancora, non c'è la barra. Oh, mille dollari di consolazione. A questo punto vi dico che... L'isano ottavo, ma non ottavio, non si è sbloccato niente altro. Per sbloccare questo dovrei vincere uno. Qui dovrei vincere... Per sbloccare questo devo vincere questa e questa, sicuramente. Per le altre non si sa. Quindi... Allora... Torniamo indietro. Qui vedo che c'è scritto Joyride. Non so cosa sia. È una cosa che andremo a scoprire nel prossimo episodio. Forse. Adesso vi saluto e ci vediamo quindi al prossimo episodio in cui faremo o Joyride o sfide. Non so ancora. Ciao a tutti.